Autostandar promuove l'operazione quattro ruote per quattro zampe. La concessionaria DR di Torino e di Moncalieri Autostandar contribuisce alla produzione televisiva di quattro zampe in tv, video adozioni, la trasmissione che da dieci anni presenta i cani in adozione dai canili in tutta Italia. Autostandar, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore Autostandar. Bentornati a tutti voi ad una nuova trasmissione di video adozioni. Con grande soddisfazione siamo al rifugio di Cervasca. Mara, benvenuta e bentornata. Ciao Francesco. E ciao Massimo. Ciao. Nella vita di tutti noi ci sono delle giornate di grande soddisfazione. e una di queste perché la prima cosa che mi ha detto Mara, dieci cani presentati nella scorsa puntata, sette hanno trovato in tutta Italia famiglia. Sì, abbiamo avuto delle adozioni fantastiche, cioè sono sempre fantastiche, ma queste forse di più. Allora, vabbè, Otello è rimasto qua nelle nostre... Quindi partiamo con la trasmissione, con la parte della trasmissione più bella. Post adozioni, il nome di questa rubrica, vai. Ok, allora Otello è stato adottato qua in zona, anche lui è andato a star da Dio. Giolli ha trovato la sua famiglia, tra l'altro con bambini, fa dei salti alti così e gioca benissimo. Titus è andato a stare vicino al lago di Garda, quindi è diventato anche... Lui è Veneto perché è sul lato Veneto. Stellina è andata a stare in quel di Torino, anzi lì vicino, vista il vostro programma l'hanno adottata. Grazie. Billy, il cagnolino anziano che aveva avuto lo sfratto con la proprietaria, la proprietaria ha trovato casa ed è venuta a riadottarselo. Quindi la storia più bella che abbiamo avuto. Charlie, nove anni, una signora non più giovanissima qua della zona, se ne è innamorata e se l'è portato a casa, quindi faranno la pensione insieme. E Kendra è stata vista in provincia di Trento sul vostro programma ed è andata a casa a Trento. Grazie, semplicemente grazie. Avete aperto le vostre case, famiglie, cuore ai nostri amici. Là dietro, guardate che spettacolo. Loro sono in attesa in fondo e noi siamo qua, siamo partiti, siamo venuti su a Cervasca, due chilometri, pochi chilometri dopo Cuneo, nella speranza di trovare anche loro famiglia, casa, come abbiamo detto prima. E dunque grazie. E la speranza che cos'è? E' questa che è nella nostra copertina, di fare in modo che Bolt, senza lacca, trovi una persona come Massimo in fondo, che lo sa gestire, lo può gestire, e un amico. Ha bisogno sì, di un amico. E' un cane buonissimo, molto tranquillo, vabbè adesso è un po' agitato perché vede altri cani, però di per sé è molto buono, figlio unico ovviamente, come quasi tutti i cani di questa tipologia, però è un amore con le persone e con i bambini. Quindi benissimo come cane di famiglia, ha solo bisogno ovviamente di qualcuno che lo sappia gestire, perché essendo massiccio e potente, deve avere qualcuno che se lo tira non se lo porta dietro, tutto lì. La prima domanda, la storia di Bolt, arriva dal sud? Lui arriva dal sud, effettivamente di lui non si sa tantissimo, è stato trovato per strada, però il perché ci sia arrivato non si sa. Arriva da una terra dove i cani vengono presi tante volte solo per bellezza, per moda, per sport, e quando non servono più vengono sbattuti per strada. Lui è stato recuperato da un'associazione con cui collaboriamo, è stato rimesso in sesto perché era in condizioni ovviamente pietose, perché i cani non si sanno arrangiare da soli per strada, e poi ce l'hanno mandato qui nella speranza che trovasse casa. Randaggio, rifugio, casa, questa è la nostra speranza, partiamo con la rassegna. Assolutamente. Un saluto a Tiziani innanzitutto, che è fondamentale il volontario che ti dà una mano a cenericani, perché altrimenti come faremmo? Live lucky, stesso box, stesso prato? Speriamo che abbiano la stessa fortuna di andare a casa tutti e due. Lucky, che è quello nerofocato, arriva dal sud Italia, lui è una rinuncia di proprietà, era di persone anziane che non potevano più gestirlo, lo tenevano piccino in casa e lo facciano sporcare sul balcone, ovviamente non era una vita, e allora delle volontarie sono riuscite a convincerli a cederlo per trovare una sistemazione migliore. Mentre invece Liv, quella marroncina, l'abbiamo trovata qua sul territorio, insieme a un altro cagnetto che è già stato adottato, è giovanissima, lei ha due anni, Lucky ne ha tre, speriamo appunto che riescano a trovare casa velocemente, sono due taglie piccole, estremamente socievoli. Lucky piccino ha sofferto un po' il passaggio dalla casa al box, quindi è un pochettino titubante inizialmente, però una volta che prende confidenza è molto dolce. Lei è un concentrato di energia, lo stato puro, che fa le feste a tutti, gioca con tutti, quindi ha solo voglia di trovare una nuova famiglia per andare a casa. Ed ora è la volta di Sara che ci presenta, potremmo proprio dirlo su questa passarella, Dash, che tu definisci un borzoi più un colli. E l'abbiamo definito amichevolmente qua in Canile il borzolli. Molte sono le razze attuali, lo schnauzzer ad esempio, frutto di incroci, tra virgolette, di altre razze. Oggi potrebbe essere nata qui a Cervasca una nuova razza? Sì, una razza tra l'altro estremamente elegante, perché ha il pelo del border colli, però questo muso affusolato, allungato, che se uno guarda su internet è spiccicato a un borzoi. E le dimensioni del livriero russo, il borzoi, bellissimo? È un po' più basso, quindi è proprio la via di mezzo tra il border colli e il borzoi. È un cane estremamente dolce, Dash, è un po' timoroso, probabilmente non ha fatto grandi esperienze prima dell'abbandono, lui l'abbiamo trovato qua sul territorio. A circa un anno e mezzo va d'accordo con tutti, ha una gran voglia di giocare, solo che quando non conosce tende ad essere un po' timido e tende a spaventarsi facilmente. Però un po' di avvicinamento e di tanta buona volontà sa dare tanto amore anche lui. I livrieri sono miti per natura, assolutamente, i border colli un po' meno. Ma lui è un cane molto attivo perché quando è libero gli piace correre, gli piace giocare, rincorre tutto, quindi l'indole del border colli ce l'ha, però sa anche essere estremamente elegante e tranquillo come un borzoi, quindi è proprio l'equilibrio dei due. Il viaggio dalla Sicilia è stato lungo, è rimasto ancora un po' di paura? Sì, è rimasta un po' di paura, ma più che altro perché lei arriva da uno di quei famosi canili sovraffollati, dove i cani sono dei numeri. Per la carità, i volontari si arrabattono e fallono quello che possono per accudirli, però ovviamente dove ci sono più di mille cani non si possono far miracoli. Il nome è Beth con l'H, dicevi? Lei è Beth con l'H, sì, è arrivata su con la sorella insieme a altri otto cani, erano dieci in tutto, presi da un canile appunto in provincia di Trapani, timidissima all'inizio, adesso pian pianino si sta aprendo, ha bisogno ancora di fare qualche passo avanti, con la persona giusta dà la grande soddisfazione. Il mio suggerimento è quello di far parte del recupero di Beth, quindi non arrivare e portarsela a casa, ma arrivare e conoscerla, frequentarla, guadagnare la sua fiducia e poi dopo sì. Ovviamente perché lei ha solo bisogno di prendere una nuova figura di riferimento. All'inizio non ne aveva, adesso qui a noi e pian pianino si sta affezionando a noi, si sta imparando a fidare, deve fare la stessa cosa con qualcun altro. Quindi non è il cane che vieni o che bello me lo porta a casa e finisce lì. Bisogna metterci un po' di impegno e un po' di buona volontà. Sarebbe il principio per tutte le adozioni, arrivare e capire, conoscere il nostro amico e non arrivare e portarcelo a casa, ma arrivare e frequentarlo, dargli una mano e recuperarlo. Sì, in teoria bisognerebbe far quello. Poi tanta gente ha solo voglia di andare e portarsela a casa, quindi questa cosa non lo fa e cani un po' più timidi vengono penalizzati e rimangono in canile, mentre invece quelli subito socievoli sono quelli che hanno più probabilità di andare a casa. Speriamo che ci sia la famiglia giusta per lei che faccia invece tutto questo. Letteralmente salvati dalla deportazione dei medici del canile di Messina, Spencer e Fridge hanno trovato nel rifugio di Cervasca una nuova vita. Sì, hanno trovato una nuova vita, speriamo non sia l'ultima. Noi cerchiamo sempre di far sì che questo sia un punto di approdo, non di ristagno, quindi devono venire, sistemarsi e rendersi adottabili per quelli che sono spaventati e poi andare a casa. L'adozione è disgiunta ovviamente? Anche sì, se si riesce a trovarla insieme sarebbe il massimo, sono due fratelli cresciuti insieme, sono sempre stati insieme, sono finiti in canile insieme, speriamo che vadano a casa insieme. Se non si riesce va bene lo stesso, non precludiamo l'adozione di uno o per l'altro, questo è sicuro. Hanno un anno e mezzo, quasi due, molto dolci, un po' timidi, Spencer che è quello con la testa più chiara è un po' più timido, Friggi invece, è una testa un po' più matta, è quello un po' più espansivo dei due, però sono due cani mix da caccia estremamente dolci. Non più cuccioli, sono entrati nella fase più difficile che potrebbe determinare la loro vita in canile per sempre. Noi ci ribelliamo a questo. Ma ti dico, sinceramente non è detto. È più facile a volte far adottare un cane già un po' più adulto perché è più educato e non c'è il rischio che ti distrugga a casa o ti faccia pipì e cacca dappertutto piuttosto che un cucciolo che invece è sicuramente molto più da seguire. Loro sono in quella fase dove non sono cuccioli ma non sono neanche adulti, non sono né carne né pesce, quindi magari per quello possono essere un po' più discriminati, però chi lo sa, sono molto giovani. Ingrid, in fondo ha sicuramente il carattere dell'abrador? Sì, sì, assolutamente. Coccolona, giocherellona, cucciolona, ogni tanto anche un po' testona, ma tutti i cani lo sono, lo sono anche le persone. Lei non ha neanche un anno, è tornata qui dopo diversi mesi di adozione perché è andata via a dicembre dell'anno scorso, è stata fino alla settimana scorsa in famiglia e poi il ritorno in canile ovviamente non è stato piacevole, soprattutto non adesso che prima era in casa al caldo e qua si avvicina l'inverno e inizia a far frescolino. Certo, pronta per adozione, in questo caso a differenza di ciò che dicevamo prima può salire in auto e questa sera ritrovarsi in una famiglia. Sì, lei sì, lei te la compri con due biscotti, forse anche solo uno, te la carichi in macchina essendo che è già stata abituata a stare in casa e fondamentalmente è chiave in mano, pronta per andare a casa e ripartire da zero con una famiglia speriamo anche qui più responsabile. Il suo nome è Enia, io ho detto Inia e si pronuncia Inia, mi dispiace cara. Ma noi siamo italiani e lo diciamo all'italiana quindi è Enia. Lei fa adesso poi un anno a novembre, è una cagnolina buonissima, molto timida, era stata adottata anche lei, ahimè l'idiglio è finito dopo tre mesi di adozione, ora è tornata in rifugio, cerca nuova adozione ovviamente con persone disposte come al solito di come abbiamo già detto a fare il percorso, a conoscerla, ad aiutarla a imparare a fidarsi e che le diano i tempi per prendere confidenza. La timidezza è un ostacolo, assolutamente, lo dicevamo prima, allontana la possibilità di adozione per molti cani, lavorarci però che conquista o che soddisfazione. Sì, anche perché un cane timido una volta che poi si prende fiducia si dà tutto, cioè è meglio di un cane socievole perché il cane socievole poi si svende a chiunque, invece il cane timido rimane poi tuo a tutti gli effetti, quindi una volta che te lo conquisti siete poi una cosa unica e inseparabile. Venite a conquistare Inia o D'Enia. Ok, va bene. Il destino ha scelto il fratello di Toro che ha trovato casa. Sì, Noctis infatti è andato a casa un mese fa con una ragazza qua della zona che se ne è innamorata e lui invece è rimasto qua. Cerchiamo la sua principessa a questo punto. Sì, ma anche un principe, diciamo non discriminiamo assolutamente, l'importante è che trovi la persona, la famiglia, che poi chi sia sia, però chi riuscirà ad innamorarsi e a portarsela a casa. Già ha avuto una rinuncia di proprietà quando è arrivato qua. Se poi ancora deve passarci troppi anni, ne ha già cinque, diciamo non è proprio un giovinotto, speriamo che trovi la persona giusta. È nero anche, peggio di così proprio. È un bel pastore, dai. È un bel pastore, è buono, è socievole, è coccolone, le ha tutte, però è di taglia grande, è un maschio, è nero e non è giovane. Purtroppo anche tante cose contro, quindi speriamo invece che la gente riesca a vedere oltre e che si innamori di quegli occhioni e di quella lunga, lunghissima. Per Fiona il materacuneo è durato quanti mesi? Tanti, adesso sono quasi due anni. Purtroppo è una cagnolina che è arrivata che aveva già cinque anni, adesso va per i sette. Era timidina, adesso si è aperta un pochettino, ma rimane comunque un po' sulle sue. Era subito dei maltrattamenti, era andata in una struttura di rieducazione per superare i traumi, poi è arrivata qua. Quindi di step ne ha già fatti tanti. Ha bisogno di quello finale che è quello di una casa. Purtroppo oggi si è guadagnato l'appellativo di invisibile, direi, no? Dopo due anni. Sì, assolutamente. È uno dei tanti di quelli che appunto nessuno guarda, anche perché non ha niente di particolare. È una cagnolina di taglia contenuta. Non ha niente di speciale che salti all'occhio. È abbastanza anonima e quindi passa un po' nel dimenticatoio. Quando la gente passa davanti ai box, a momenti neanche la vede. Noi le potremmo promettere di portarla in onda, sul web, ogni volta che veniamo su. Perché no? Ma perché no? Si potrebbe fare. Sino all'adozione. Per sfinimento qualcuno lo troviamo. Proveremo. Promessa, Fiona. Se volete baci, 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 e venite a visitare l'area cuccioli del rifugio di Cervasca. Nero, bianco? Tricolore. Ce n'è per tutti i gusti. La femmina tricolore si chiama Mascia, ha otto mesi. Quello nero, che sembra un incrocio labbra, ad ora è turbo. Gli hanno dato un anno, ma avrà sieno otto, dieci mesi e non gli piace stare chiuso. Poi c'è quello bianco, Connor. Anche lui gli hanno dato circa un anno di età, ma ha sette, otto mesi di vita. E poi l'unica adulta, che la vediamo là nell'angolino, adulta anagraficamente, non di testa, perché è più cucciola dei cuccioli, e Millie, che ha due anni e mezzo, un incrocio border collie. E loro aspettano. Avete una settantina di buoni motivi per varcare la soglia del rifugio di Cervasca e trovare l'amico che più fa il caso vostro, taglia, colore, età e tutto. Questo è il nostro compito. Il vostro, per adesso, grazie di averci seguito. Grazie di averci seguito, grazie di essere venuti ad adottare, di averci contattato. Continuate. Bene, un ringraziamento a Massimo, Tiziana e Sara, giusto? Sì, grazie a tutti, ovviamente dell'aiuto, sono sempre preziosi i nostri volontari. Assolutamente, che hanno collaborato. Grazie a voi per l'attenzione. Dobbiamo chiudere, il tempo è terminato. Buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'Automobile Club Torino, che patrocinia dalla nascita video-adozioni, ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni. Da sempre l'ACI Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada, perché sono causa certa di incidenti. Ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni.